Buonasera. Buonasera direttore. Direttore, ultimo dell'anno, ultimo della stagione, quindi le chiedo un bilancio. Il bilancio è estremamente positivo, anche c'è il serramarico di non aver messo la cinesina sulla torta, ma questo va a merito anche degli avversari che evidentemente sono stati più bravi di noi nell'arco di questa stagione, noi siamo stati più bravi nell'arco del triennio, abbiamo conseguito più punti in campionato di tutti, abbiamo portato a casa tre trofei, abbiamo fatto una finale d'Europa League, quindi direi che questo depone favorevolmente per un'Inter ritrovato, un'Inter ambiziosa che vuole continuare su questa strada e quindi in merito va ai giocatori, all'allenatore sicuramente è stato molto bravo, ai tifosi che sono eccezionali e splendidi e direi la proprietà nella persona anche di Steve Zhang che è un presidente giovane ma che è molto vicino alla squadra. Direttore, faccio fare anche una domanda da studio e poi la salutiamo. Studio. Sì, buonasera direttore, complimenti per la grande stagione che siete riusciti a fare. Riparto proprio dall'abbraccio che ha voluto regalarvi non solo la curva ma tutto lo stadio quest'oggi anche in un momento comunque difficile, segno del grande lavoro che come diceva lei è stato fatto, dell'ottima annata che questi ragazzi sono riusciti a fare. Si riparte anche da questo, dalla maturità che anche questa sera abbiamo visto di tutto l'ambiente Inter, una maturità che è arrivata importante in questi anni, è una base importante sul quale continuare a crescere. Sì, direi di sì, il fatto di aver portato allo stadio 1.200.000 spettatori nell'arco della stagione depone come se fosse una stagione veramente grande, soprattutto l'amore dei tifosi, la presenza dei tifosi fa sì che questo club sia da considerarsi assolutamente tra i grandi club nel mondo. e noi abbiamo l'impegno come dirigenti di rispettare questa fiducia che ci viene data dai tifosi e continuare su questa strada che abbiamo intrapreso, abbiamo ricominciato a intraprendere da qualche anno, nonostante il club sia un club storico, un club che ha dalla sua una bacheca ricca di trofei, un palmaresse ricco di successi, quindi non tocca far altro che continuare su questa strada. Grazie direttore. Grazie a voi. Grazie a voi.